Mi piace molto partire dalla speranza che tu hai richiamato e sottolineato con molta forza. Io ho avuto un caro amico che è stato un grande vescovo di quello, amico dei poveri, della pace, degli ultimi, innamorato di Dio ma anche innamorato con passione della gente per dar loro dignità e speranza, Don Torino Bello, che un giorno disse, parlando proprio di fronte ai cittadini della città di Molfetta, dove lui era rescovo, dove erano scoppiati di gravi problemi, di povertà, di marginalità, di esclusione. E lui cominciò con queste parole, non mi sembra giusto che il lamento prevalga sulla danza. C'è la festa, la gioia, il momento. Ma non mi pare neppure onesto che si chiudano gli occhi sulla preoccupante realtà di degrado che minaccia la nostra convivenza cittadina. Faceva riferimento alla realtà, alla sua realtà. Noi non vogliamo che la coscienza della situazione attuale prevalga sulla speranza, sulla danza, che vogliamo vivere dentro di noi e di cui abbiamo bisogno per guardare oltre. Ma lasciatemi, per arrivare lì, non possiamo chiudere gli occhi sulla situazione in cui noi ci troviamo oggi nel nostro Paese. dove ci sono nove milioni di persone che vivono la povertà relativa, ma cinque milioni vivono la povertà assoluta. Un milione di bambini vivono la povertà assoluta nel nostro Paese. e dove il disagio lavorativo tra chi ha perso lavoro, chi cerca lavoro, chi incassa integrazione, chi vive forme di precariato nel lavoro, chi forme di sfruttamento nel lavoro, noi abbiamo sette milioni di persone che vivono il disagio lavorativo. Ma la cosa che inquieta, al di là della povertà materiale, di questa assenza di opportunità per dare dignità alle persone, libertà nel lavoro, è che l'Italia ha sei milioni di persone analfabete. E che l'Europa ci ha richiamato, ve lo sapete, ancora una volta, l'Europa ci ha richiamato non solo per il problema delle carceri e perché i nostri conti tornino in un certo modo, ma è da tempo che ci richiama nel silenzio totale, perché siamo agli ultimi posti per la dispersione scolastica. E allora ancora una volta che qui siamo insieme nella consapevolezza che è la cultura che dà la sveglia alle coscienze. La cultura. Come sentiamo forte la responsabilità dell'educare, ma anche l'educare alla responsabilità. La lucidità. Che in questi venti anni in cui tutti abbiamo parlato di legalità, e noi l'abbiamo fatto tanto come libera, è cresciuta l'illegalità nel nostro Paese. Questo non significa assolutamente, e tu l'hai ricordato bene, dimenticare le cose belle, importanti, generose, positive, anche il sacrificio di tante persone. E tutto questo deve essere sottolineato con forza, deve essere anche riconosciuto, valorizzato, fatto conoscere le cose belle, belle, positive, di tante persone, di tante realtà. Io credo che questa sia una nostra responsabilità, un nostro dovere, far emergere tutto questo. Ma dall'altra parte, in questi ultimi vent'anni, si sono fatte, o non si sono fatte, delle cose, che ci consegnano una situazione che è quella che abbiamo davanti agli occhi tutti. L'illegalità è forte nel nostro Paese. Ma è sbandierata da tutti la parola legalità. È la grande bandiera del Paese la legalità. Come è la grande bandiera del Paese oggi, tutti sono antimafia. Nessuno è contro la mafia. Cominciato dai mafiosi. Perché a Villa Abate, proprio a Palermo, a organizzare le manifestazioni, era il boss della mafia. Così dice, almeno tutti penseranno che io sono a posto. E era lui che organizzava tutto. Il mafioso. Con la faccia d'angelo, promuovendo, il parroco in testa, il sindaco, le scuole. Tutti in buona fede. E il mafioso che organizzava. Allora noi siamo in questa situazione, in una situazione dove noi dobbiamo cogliere in un certo momento la consapevolezza delle cose belle, importanti, positive. Ma l'abbiamo detto l'anno scorso e a distanza di un anno, io mi permetto di ripeterlo, hanno continuato a rubarcelo ancora di più questo furto delle parole. È un furto delle parole. Perché molti hanno scelto, certo parlano di legalità, però hanno scelto la legalità maleabile e sostenibile. chi è che non parla della corruzione? Peccato che non riusciamo ad avere una legge chiara, categorica, puntuale, attenta, come l'Europa ci chiede dal 1999, una parte passata. Ma c'è una parte fondamentale che deve passare, che deve ripristinare alcuni reati, ma questo non sta avvenendo. e quindi io mi stupisco di chi si stupisce della corruzione a Milano, di quello che è successo al Mosè, eccetera. Io mi stupisco, guardate, c'è da stupirsi, perché non avendo gli strumenti, non avendo gli strumenti legislativi, non è tutto lì, non è tutto lì. Ma quelli sono anche dati importanti. E poi dove qualcuno viene beccato, il 35% dei reati in Italia vanno in prescrizione. E quindi, molti si guadagna tempo, così diventa tutto chiuso un pochettino nel cassetto. C'è una parola che manca nella Costituzione italiana, che voi sapete. Ci manca una parola. Una parola che si dava per implicita, si dava per scontata. La parola verità. Ci vuole il coraggio della verità, che voi mi insegnate che prima della nostra intelligenza, la ricerca della verità impegna la nostra coscienza. Il problema di coscienza. C'è un grido nel Paese di bisogno di verità, rispetto alle stragi, rispetto ai familiari di vittime, che hanno perso i loro affetti, strappati via con grande violenza. Con grande violenza. Noi siamo qui, nelle positività, nel valore delle cose che si sono costruite, di quei bei segni. E nove anni fa è nato un segno bello nel Paese, perché libero cinema e libera terra è un segno bello e importante. È un segno che certamente ha graffiato nelle coscienze dove si è andati in luoghi anche non semplici. Ti ricordi quella sera a Corleone? Ma non solo, ma non solo. È un Paese disuguale il nostro. La causa delle mafie è anche in questo persistere delle disuguaglianze nel nostro Paese. Non si possono sconfiggere, tra virgolette, sconfiggere, le organizzazioni criminali senza lavoro, senza sviluppo economico sano, attento al bene comune, senza l'affermazione delle dignità e dell'uguaglianza. Hai ragione. E siamo anche qui per questo, per ribellarci all'impotenza. Noi ci ribelliamo all'impotenza. Andiamo a fare in modo che a diventare normale non sia la corruzione, l'illegalità, il riciclaggio, le mafie, ma l'onestà. Tocca a noi continuare. Tocca a noi continuare. Mi sono sempre chiesto, dalla prima volta che vi ho conosciuto, la meraviglia, la meraviglia, cinema, immagini. E ancora una volta, sentendovi parlare questa mattina, sento profondamente che il cammino e il dono che voi fate sono legami. Sono legami di etica e di estetica, di bene e di bello. Quei film saldano fortemente questa dimensione, queste dimensioni. Perché voi me lo insegnate, e tu ci sei maestro, grande maestro, che la vera bellezza, quella che unisce la forma e il contenuto, la vera bellezza che unisce, è segno di verità ed è la ricerca di verità e anche condizione di giustizia. Quindi questi cinema saldano questa dimensione, portano giustizia, portano ricerca della verità, sono segno di verità, uniscono il bene e il bello, l'etica e l'estetica, pongono domande, ci insegnano che i dubbi sono più seri delle certezze, graffilo dentro e certamente stimolano delle persone a riflettere, a conoscere, per diventare anche persone più responsabili. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.